Mi ricordo 10-11 anni quando MTV lanciò la programmazione animata, però animata per i grandi, che faceva un po'... il massimo che mi concedevano erano quei famosi cartoni gialli su un'altra rete che non deco i personaggi gialli, però erano molto respingenti e allo stesso modo molto ti attraevano per quello, perché eravamo, almeno io, in un'età in cui non si aveva ad essere attratto dalle cose... Ecco, io avevo 11 anni, li vedi e pensai che erano proprio fichi, cioè io guardavo e pensavo fico, e poi ho scoperto che in effetti loro in americano dicono sempre coo, perché erano molto simili a noi, per quello veramente, era come rivedersi in televisione. No, molto libero, cioè la cosa importante è il divertimento di loro due sul divano e come diceva Iedo, di noi tutti i spettatori sul divano. Alla fine il bersaglio della satira di Babies and Buttons sono Babies and Buttons stessi come la migliore comicità, quindi credo che il linguaggio sia molto efficace e molto attuale. Hanno fatto scuola in generale nella comicità? Io direi di sì, come molte altre serie animate, sì sì, sono stati molto irriverenti, sono venuti un po' prima di altre serie che poi hanno avuto grandissimo successo, quindi sì, sicuramente hanno fatto scuola. Cosa ci piace in televisione? Ma programmi comici, piccolo schermo, diciamo in televisione trovo molto poco di, diciamo nella tv generalista. Cerchiamo sulle piattaforme serie animate, serie comiche di nostro gradimento, a me piacciono molto le serie comiche, mi piace Richie Gervais, tante serie di intrattenimento, anche tante serie animate. Io ho un sacco di sport ora che ci penso, cioè veramente tanto sport e tanta tv privata, cioè è molto rilassante mettersi in un'oretta a scarrellare sulla tv quella, la tv vera. Io ho un rapporto con la tecnologia, non proprio, cioè a me piace che siano pochi canali, comodi, però ovviamente sulle altre piattaforme, o come sarà per Paramount+, vedremo tutte le serie di cui tutti quanti parlano, perché ci servono come riferimenti, ovviamente, però scherzare poi. E se dovesse essere coinvolti in un altro progetto Paramount+, su cosa vi piacerebbe lavorare? Essere i due italiani che fanno Maverick, il prossimo Maverick, i due italiani che arrivano nella scuola Top Gun e passano tutto il tempo a dire che si mangia uno schifo, tutto spostato sulle cose italiane. No, io personalmente vorrei fare X on the Beach, questa è la mia vera ambizione. Come conduttore o... No, come X on the Beach, come concorrente, io che la spiaggia mi alzo. Abbiamo visto a Cinecittà delle prestazioni. Beh, appunto, insomma, avete capito che ho le carte in regola per farlo.